Si torna pian piano alla normalità in Europa per quanto riguarda le temperature. Dopo un'eccezionale ondata di caldo africano che ha messo in ginocchio diversi paesi, si ricomincia a respirare. Come nel nord della Francia, dove in alcune città le temperature sono scese di 15 gradi rispetto a sabato. Persiste però il caldo estremo nella parte orientale e meridionale dell'Esagono, con 32 dipartimenti ancora in allerta arancione e oltre 35 gradi. E a soffrire non sono solo le persone, ma anche le piantagioni. Le perdite di raccolto per alcuni agricoltori sono notevoli. Avevamo programmato la raccolta per questa settimana, ma ora è finita, spiega un coltivatore di Bover in Occitania. Quando le piante soffrono per l'ondata di caldo e con il sole che c'è, beh, è finita. Sono bruciate, tutto è bruciato. Non valgono più nulla adesso. Le elevate temperature non hanno risparmiato le montagne. Ad alta quota, sulle Alpi, dove normalmente in questo periodo dell'anno si registrano 0 gradi, nei giorni scorsi il termometro ne segnava addirittura 13. Ad approfittarne i parapendisti, come vedete in queste immagini, che ci arrivano dal Monte Bianco.